Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Seguono le iniziative di Roma Capitale per celebrare il bimillenario della morte di Augusto con tre mesi di visite guidate gratuite sui luoghi di Augusto. Prenotazione obbligatoria allo 060608. E poi è in corso fino a novembre il progetto Robotica in Pediatria. Ogni mercoledì dalle 15 nella ludoteca dell'ospedale Bambin Gesù, gli animatori di Tecnotown guideranno i ragazzi alla scoperta della tecnologia. Grazie a tutti.